affects game headshot beach room 1 shot 1 kill ciao a tutti ragazzi da TheFaceGame oggi faremo la modalità di Armani State Warfare su AppLink la nuova e incredibile modalità di gioco trasporta o lancia il drone e il satellite nella stazione AppLink per segnare i punti è inutile che ti esalti tanto, è palla a mano praticamente c'è un canestro dove devi tirare la palla dentro Trovare come ha tratto la partita velocemente Questa è una partita appena finita in teoria Vedi intermezzo Eccoci qua ragazzi siamo su Riot È la terza volta che entro in partita Allora prima si è più andato il gioco Poi se la mia connessione è la gava Adesso spero che funzioni La partita non è in corso Adesso secondo me si altererà corrente Poi invece si fulminerà il PVR Poi mi si spegnerà il computer Poi si fotterà la videocamera Comunque con la mappa di prima mi piaceva perché era piccola Ma non hai visto niente dalla mappa prima No quella proprio dal primo video Ma vedi tu devi far canestro lì Ma con cosa? Con la palla raccogli Vedi che c'è scritto giallo raccogli Ah si ok Adesso ho letto Ecco questa mappa In questa mappa ci ho giocato Ah si? Al Games Week? Si è figo Eh beh è la sta mappa No Cioè si Ma no occhio Rattata Rattata Tira una granata Un cazzo Perché non avevi le granate? Ehi non so ancora in cosa sto schiacciando Aspetta Rattata Occhio Ammazzato Ammazzato Scudo 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 Si ma vera che si fa fanculo subito lo scudo Si ma che merda Va bene Occhio là sopra Ma dove cazzo è raccogli Ricordiamo che comunque questa mappa si chiama Riot Non so da un pugno alla grata Eeeh E fra poco Cosa c'è? Ho ucciso Ma occhio girati Là sopra Là sopra Là sopra Muori pezzo di Pezzo di merda Sterco Headshot Headshot Si è capito ma comunque Occhio Cioè ragazzi Eeeeeh Nooo Fa un culo Pezzi di merda Sgocciolanti Aspetta un attimo Che adesso vado su per qua E li prendo da dietro Guarda ho già capito la mappa Guarda forse non hai capito Che Ti ho detto io? Ma te l'ho detto o no? Si ma le mappe qua sembrano alte Ma col fatto che c'è il doppio salto Lo sviluppo in verticale È una cagata Guarda che numeri che faccio Boh Non so Se per me è un numero saltare così Vabbè ok Sai che allora Tu devi portare qui la tua palla Ma scusa ma dov'è? Dov'è? Ma che serve? Eccolo Rattatatatatà Merda Cazzo l'avevo quasi ucciso in culo Però hai fatto l'assist In tuo culo ai maia Bastardze caino Si ho capito comunque Tu devi andare su uccidi Non su Io devo andare su Dove c'è gente? Bene Noto con piacere che lo stesso Anche i tuoi amici Non ho dei problemi a capire Chi è il buono Io devo andare su Giusto ho capito Che così entri dalla finestra Spari per dietro Capito? E' bello Non so se aumentano un po' la sensibilità del joy Oh cacchio Vai prenderla No no fermo Sparalo 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 Merda Cazzo 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 aspetti Muoviti Troppo vicino al tuo punto La prendo La prendo Bastardi Bastardi E caini Dio bonino Dove cazzo sono? Sono lì dal tuo respawn Pezzi di merda Intervallo Pensavo che Aveste foste lì 11 a 0 Ma lo facciamo ancora recuperare E io pensavo Per colpa tua Sono andati a farlo Guarda la vedo Ah ma proprio entra Non so se entra o devi tirarla No puoi anche tirarla Però in teoria E se la tiri dal punto da 3 Come nel basket No? Non lo so Senti allora Io non ho capito un cazzo Questa modalità qui Pensavo che stesse pareggiando Invece stai perdendo 11 a 0 Praticamente Nel basket Sai benissimo Che se tu tiri da lontano Fai il tiro da 3 No? Se schiacci vale solo 2 Allora Magari se tu lo Drone Porta il drone Sì la palla No pensavo avesse scritto Che siamo inculati Insomma Eh di già In qualche modo Comunque dai Descrivimi Call of Duty In una parola Parmigiana Grande Ultraman Ne diremmo quel ragazzo Vedi che ci sono i limiti Invalicabili Torna lì del limite Invalicabile No ascolta Io sto giocando gente Dove cazzo sono? Questi bastardzi e caini Tanto vai a saltellare Vabbè Andiamo Non te neanche guardi Le porte chiuse Non le puoi aprire Ma vaffanculo A mezz'ora che cerco uno Mi esplodo dalla schiena Voi mi state già perdendo 0 a 13 Ma che cazzo ha fatto appunto? Spara! Sono tutti lì! Mamma mia che disastro Ma che rimettere? Mamma mia Tira una granata Allora intanto Tu non hai capito Si tira una granata sempre Tipo là in mezzo Ma chi? L'hai in mezzo Tirala Ma non tiro granate Devo andare a uccidere Vai prenderlo Gli prendo Gli prendo Gli prendo Glielo prendo Vai via Corri 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 Perché gli si è saltato in bocca? Per fare l'azione epica Non so, ci sono robe che lampeggiano Bastage caini Hai fatto l'assist almeno? Sparalo, sparalo, tira una granata Lo scudo non para le granate Soprattutto se ce l'hai dietro la schiena Che scudo di merda Soprattutto se hai la granata dietro la schiena Aspetta che faccio il bastardo Vieni fuori da lì adesso Pezzo di merda Adesso vieni fuori L'ha tirato, hai visto? Dai andiamo su Merda, ma che casino è? O l'ho ucciso? L'ho ucciso Il gente che parla ma non ce ne fanno un cazzo Metti il bip quando parla lui Ma si sente cazzo Si che si sente, sei tu che non senti perché il volume è basso del televisore Che cazzo Basta, camperone Schifo, merda proprio E sai cosa sta dicendo il generale di ferro lì, stupido Cosa cazzo? Bastaso Ammazzalo cazzo Non è che posso avere L'arma con due canne No? Che spara a destra e a sinistra Eh dopo Vabbè avanced warfare Ma non è Super Mario Non è così avanced Ma vai a prendere la palla Muoviti La prendo io ragazzi La prendo io Adesso fai il giro contrario Ma vaffanculo Ma siamo chiusi nel respawn Eh vabbè è normale Sono più forti loro Eh vabbè Ma così come cazzo faccio a giocare Io mi chiedo cosa si abbia da lamentarsi Capitan Phillips lì Mi si chiama Sì Il tipo lì che parla sempre al microfono Sì che si lamenti È lì che parla parla Aspetta aspetta vado di qua Ecco Bene No ma 16-0 È una sconfitta Degna 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 Ma alla fine guarda che non è che il server ha finito Perché ha vinto gli altri Si chiama manifesta inferiorità Cioè il gioco è intro troppo Perché sono troppo scarso Cioè guarda come giochiamo Ci spavano Va bene ma scusami Presumo che sia la prima volta Che tutti quanti giocano Sono arrivato secondo Sì ma l'altro Faccio cagario col joy Per Dio non so neanche come si tiene in mano Giocavo così per un periodo Va bene ragazzi Se avete piaciuto Continuate a mettere mi piace Continuate a iscrivervi al nostro canale Nella nostra pagina di facebook Che vi ricordo che abbiamo anche un secondo canale Dove faremo cazzate Ah ragazzi Prima di chiudere il video Diteci se volete magari Una serie Se volete consigliarci qualche arma Qualcosa volete che facciamo il video Su che modalità Volete che facciamo la storia Il single player Tutto qua Ciao a tutti E al prossimo video